Ciao a tutti, sono qui oggi nella cucina di Giallo Zaffrano e vi mostrerò come preparare un omelette. Un omelette semplice, esattamente come l'ho imparata io tanti anni fa. Alla fine vi darò qualche consiglio su come arricchirla. Gli ingredienti di cui avrò bisogno oggi sono latte, olio extravergine di oliva, sale ed infine uova. Vorrei parlarvi un attimo delle uova. Le uova hanno un numero all'inizio che va da 0 a 3. Dal punto di vista nutrizionale non ci sono differenze. Dal punto di vista etico io preferisco utilizzare lo 0 o l'1 perché sono galline che vivono all'aria aperta. Come riconoscere un uovo quando è fresco? Potremmo utilizzare per esempio il sistema della nonna, lo mettiamo dentro l'acqua e sappiamo che quando galleggia non è così fresco. Ma quando lo apriamo che succede? Apriamone uno per vedere. Il colore del guscio non ha importanza. Certo se il guscio è abbastanza doppio già indica praticamente una gallina in buona salute. Ma guardando l'uovo per esempio possiamo riconoscere quando l'uovo è fresco semplicemente utilizzando l'albume. Quanto più l'albume è attaccato al tuorlo tanto più l'uovo è fresco. Quanto più liquido è rilasciato invece al di fuori dell'albume tanto più l'uovo non è fresco. L'uovo in generale è il colore, non indica assolutamente nulla. Può essere una preferenza per esempio utilizzarli a tuorlo più giallo oppure a tuorlo meno giallo. Quello di cui avremo bisogno sono ingredienti e utensili molto semplici. Quindi una boule, una frusta, utilizzeremo per evitare sprechi l'uovo che abbiamo appena aperto. Ne apriamo un altro perché ne avremo bisogno di due. Latte, un pizzico di sale. Nel frattempo accendiamo la nostra padella, ecco qui, con la frusta prepariamo la nostra omelette. Facciamo sì praticamente che tutta la parte dell'albume non sia più così compatta. Sappiamo che è pronta quando facendo così viene giù a filo. Perfetto. Ora avremo bisogno semplicemente di un po' di olio di oliva. Lo facciamo riscaldare. Aspettiamo un attimo che la nostra padella si riscaldi e che l'olio raggiunga una temperatura decente. Possiamo fare anche una piccola prova così. Aspettiamo ancora un altro po'. E poi versiamo la nostra omelette. Con calma e senza fretta perché noi vogliamo cuocere l'uovo abbastanza lentamente in maniera tale che mantenga comunque una morbidezza. La parte esterna dovrà essere dorata ma non troppo. Per aiutarci possiamo utilizzare un coperchio in maniera tale da far cuocere l'uovo dolcemente. quanto più dolcemente si cuoce l'uovo tanto più morbido sarà. E se pensiamo che la temperatura sia eccessiva possiamo semplicemente mettere il coperchio e spostarlo un secondo dal fuoco in maniera tale che ci regoliamo e capiamo se stiamo magari cuocendo l'omelette un po' troppo velocemente oppure un po' troppo. La parte interna dell'omelette dovrà essere come come si dice in gergo un po' bavosa nel senso che dovrà essere morbida quindi non è una frittata perché la frittata invece tende ad essere cotta totalmente mentre l'omelette vuole rimanere sempre un po' morbida. Come vedi sto ruoteando la padella in maniera tale che l'omelette giri. La ragione per cui lo faccio è perché voglio evitare che praticamente rimanga sullo stesso punto per tanto tempo e conseguentemente la temperatura andrebbe troppo oltre quello che io voglio invece ruoteando mi permette praticamente sempre di cambiare e quindi di mantenere una temperatura costante un po' più bassa. Ci siamo quasi eh! possiamo aiutarci con una spatola anche per capire per esempio quello che avviene sotto quindi abbiamo come potete come puoi vedere abbiamo il fondo che è dorato ma non troppo ora con l'aiuto sempre di una di una spatola possiamo girarla La mia omelette è pronta la porto a tavola e vi consiglio di arricchirla con per esempio pomodori e avocado per un'ottima colazione un buon succo di frutta una colazione diversa rispetto a quella italiana ma una colazione che vi può portare avanti veramente per tutta la giornata una colazione buona e anche molto nutriente Grazie a tutti